Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, mi sono arrivati un bel po' di prodotti Stenum e in più da martedì, dobbiamo vedere quando è da martedì, comunque sia da fine mese, controllo qui, dal 30 agosto è partito il nuovo catalogo Stenum, quindi ripartiamo, carichi per un nuovo inizio, esattamente. È già da un po' che non pubblico qualche video, lo so, perché ho avuto un po' di problemi di salute, poi c'è stata la chiusura a mese Stenum, quindi con il mio team, le consulenti, tutte da seguire, insomma, ce n'è, ce n'era da fare, devo dire la verità, quindi ho tralasciato un po' YouTube e mi sono dedicata un po' di più a far crescere il mio team, perché giustamente la stessa possibilità che è stata data a me, come dico sempre, la do anche ad altre ragazze che sono volenterose, che hanno voglia proprio di mettersi in gioco con se stesse, ecco, avere un riscatto dalla vita magari e tutto ciò è possibile impegnandosi appunto con Stenum. Allora, non ho fatto neanche il video di presentazione, ora che ci penso, ma proprio perché sono stata impegnatissima, quindi vedo in settimana di recuperare in modo che lo potete sfogliare, oppure io comunque sia poi sotto metto, potete sfogliare il catalogo, cliccare il link, se volete diventare delle clienti ultra privilegiate, quindi di solito uno si acquista da una consulente normale, non danno tutti i più privilegi che si hanno quando vi registrate, quindi mi raccomando, proprio ve lo dico col cuore, c'è anche un superset da non perdere, che magari vedrò adesso un po' di organizzarmi anche con i video man mano, tanto ormai adesso le stagioni non sono quelle che sono, ecco, ormai oggi che sto registrando è il primo settembre, quindi questo vuol dire proprio che stiamo andando incontro all'autunno, il freddo, questo è quello un po' che ci porta a delle giornate un po' più chiusi in casa, perché in estate si sa, si va più ormai, si va più in giro, e quindi insomma, adesso diciamo che settembre è il mese dei buoni propositi, mettiamola così, ok? Un po' per tutti, io in primis, quindi ho dei miei buoni propositi per me, per la mia famiglia, per il mio team, per il mio gatto che vedo che fa il mattacchione, un giorno ve lo presento anche, così vi racconta la sua storia, non è una delle migliori però abbiamo deciso di salvarlo, adesso cerco un po' di capire cosa deve andare a fare, ho una paura immensa, perché la mattina è un disastro, è un disastro, patatoni, è lì che mi gira, perché adesso ho messo giù un pupazzo, quindi se lo va ad annusare, allora partiamo subito con il dire che questo catalogo è più corto rispetto agli altri, lo scorso catalogo durava praticamente un mese, sembrava interminabile, infatti molte, ma quando esce quello nuovo? Purtroppo c'è stata la chiusura aziendale, quindi giustamente loro hanno detto a questo punto mettiamo un catalogo lungo, in modo che comunque tutti hanno la possibilità di dare un occhio in più, un riguardo in più a quel catalogo che onestamente era pieno di saldi, quindi perché bisognava farsi sfuggire e metterlo solo di due settimane che non aveva senso con quei prezzi lì, ma non da meno anche questo, come vediamo già dall'ultima pagina abbiamo gli assorbi odori favolosi che io tengo, no, l'ho messo a posto, no, è lì in mezzo praticamente, è vicino al tiziano di un spasto, è tra il degreaser, poi c'è quello per le mani, il hand cleaner e dietro c'è il prodotto Stenwick che è una favola, c'è praticamente c'è un liquido, c'è la saponetta, voi quando agitate aprite, tenete aperto e per un bagno va benissimo, per una sala come questa ne andrebbero bene due, così quando cucinate fritto, pesce, carne, magari con gli odori veramente forti ne diciamo accendete, io dico sempre accendete due, potete scegliere fra le fragranze e con 5,95 fate veramente dei mesi, dei mesi, poi io considerate che non lo accendo tutti i giorni, ma solo quando cucino determinate proprio i cibi che fanno particolare odore, oppure se avete persone anche che fumano in casa, questo qui è un prodotto top, ecco oggi diciamo vi parlo anche di questo prodotto perché proprio merita, visto anche il prezzo piccolissimo, 5,95 anziché 11,90 cioè proprio quindi qui hanno fatto un 50% di sconto proprio folle a dir poco, quindi con una durata veramente extra, addirittura se uno lo lascia acceso tutti i giorni dura tre mesi, quindi già già quegli asprai magari possono dare un po' fastidio se contengono del gas, quindi se sentite rumore io abito sempre vicino al classico cantiere degli altri video perché stanno costruendo un bellissimo complesso di scuola, fa anche caldo, stanno costruendo un bellissimo complesso di scuola, una palestra, stanno facendo di... quindi è da più di un anno che siamo sotto cantiere, è chiaro che quando è tutto chiuso in inverno si sente meno, ma ormai i lavori sono terminati, perché è chiaro fra 10 giorni iniziano le scuole, quindi ormai penso che il grosso l'abbiano fatto. Allora io direi di partire subito perché come sapete mi piace tanto 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 chiacchierare, chiacchierare, parola d'ordine. Allora il catalogo guardate lo metto qua vicino. Innanzitutto voglio parlarvi che c'è stata una gara aziendale di fine mese e ci è stato detto di vendere questo prodottino che è piccolino ma ha una potenza di quelle assolute. Sto parlando appunto del Machine Booster. Machine Booster è un prodotto davvero davvero fenomenale. È un cura lavatrice e cura lavastoviglie. Sono 750 ml di prodotto. Allora per la lavastoviglie ne usiamo 15 ml, quindi un cucchiaio proprio da minestre. Lo mettiamo quando il sale è finito. Mi raccomando se lo schiumiamo anche tutta la lavastoviglie. Facciamo partire un... adesso io non avendo la lavastoviglie. Non ricordo di preciso la temperatura dovrebbe essere 55 ml. Vediamo un attimo. Lava lavastoviglie. Qui dice 25 ml però diciamo che noi facciamo anche molta formazione. Quindi questo è quello che io ritengo molto valido nell'azienda dove lavoro io perché posso andare proprio a consigliare come sto facendo a voi ma lo faccio anche proprio ai miei clienti che si vanno a fidare di me e quindi si crea quella sorta di fiducia. Quindi ogni volta che c'è un problema di qualsiasi tipo e genere la cliente viene a chiedere a me. Proprio stamattina ho ricevuto un messaggio dove una signora mi chiedeva per le fughe del bagno. Io sapevo che c'era un prodotto poi ho saputo che è andato fuori produzione purtroppo. Quindi abbiamo trovato diciamo l'alternativa. Allora ritorniamo al nostro machine boost. Qui dice 25 ml ma ne basta veramente un cucchiaio nell'apposita vaschetta del detersivo. Avviare un lavaggio a vuoto. Programma 55 gradi massimo. Ok? Mentre per la lavatrice io consiglio sempre un 50 ml. Esatto anche qui 50 ml 60 gradi a vuoto e potete anche metterlo un po' in una spugnetta andare proprio a ripulire non so la vaschetta le guarnizioni dove proprio si vanno a creare sapete si forma quella qui c'è l'acqua e quindi bisogna un po' andare a fare una pulizia profonda e se sentite già anche da fuori proprio il profumo è buonissimo e questo prodotto l'ho usato una volta al mese. Io lo uso una volta al mese e non avendo la lavastoviglie lo uso solo per la lavatrice. Quindi a me questo barattolino qui mi dura dei mesi e confrontando rispetto al supermercato il prezzo è veramente una sciocchezza perché al supermercato troviamo i soliti pur a lavatrice ma che non vanno proprio a risolvere enormemente. Questo qui è un prodotto professionale proprio adatto sia per la lavatrice che per la lavastoviglie quindi vi ritrovate un prodotto due in uno senza avere 3000 flaconi. Come vi avevo detto all'inizio c'era una bellissima gara aziendale. Bene, questa gara aziendale ci diceva di vendere 10 prodotti, ok? 10 prodotti per ogni consulente, capogruppo, insomma. Io vi dico già che qui ho una scatola quindi io giustamente ho detto la gara però ho detto vabbè alle clienti cioè non mi piace magari dire ok vabbè se abbiamo perso non le do niente però se nel caso vinciamo qualcosina un premietto perché no? Anche di riconoscimento non è che deve essere chissà che cosa però premiare le clienti perché hanno investito denaro, hanno investito del tempo perché magari hanno chiarato con me e potevano anche fare altro in quel momento in realtà si sono impegnate proprio ad acquistarmi i prodotti. Quindi ho avuto una decina di persone ecco quindi vi dico già che abbiamo vinto. Sono davvero contentissima, orgogliosa, riconfermata una capogruppo oro quindi io guardo cioè a volte non ho neanche le parole per dirvi la mia contentezza per quanto mi gratifica questo lavoro e come ti sanno gratificare proprio dall'azienda. Io cioè allora se calcoliamo la pausa che ho avuto da Stenum settembre praticamente verso metà settembre sarebbero due anni perché io i prodotti Stenum essere sincera non li ho mai abbandonati anche mentalmente anche se avevo fatto un'altra azienda però non è la stessa cosa il primo amore non si scorda mai con certi prodotti e poi soprattutto se sai che sono professionali ti danno possibilità che ti possono durare un'eternità. Molte persone vedo che le fermano cioè che le frenano il prezzo e lì è una cosa mentale perché poi bisogna anche riflettere molto su cosa vado a risparmiare cioè con tutto ciò che aumenta adesso io ti sto proponendo un prodotto che ci puoi fare ma dei mesi cioè io questo qua ci posso fare anche un anno volendo perché essendo 750 ml usando non solo 50 ml ci vado a fare un annetto eh. Io quindi io sono solo per soddisfatta cioè ho speso era nel catalogo scorso se non erro a 7,90 quindi io ricordo quando prendevo il cura lavatrice di una determinata marca lo pagavo 4 euro però facevo 6 mesi ecco io quindi con quei 4 euro qui fatevi un po' i conti voi io con quasi il doppio arrivo anche a più di un anno volendo ecco quindi questo c'è bisogno ogni tanto riflettere cioè noi allora ci sono quelle che vengono per vendere e lo so le conosco non mi piacciono non danno le informazioni purtroppo mi sono capitate delle clienti anche che mi hanno detto ho avuto una ragazza che mi ha una ragazza signora adesso non ricordo che mi ha consigliato questi prodotti li ho comprati però non mi ha spiegato come si usano ecco questo qui è assolutamente errato perché comunque la signora ha investito del denaro si è fidata di te e in quel preciso istante quando tu gli dai prodotti giustamente ha bisogno di un'assistenza ci può stare magari anche l'assistenza post vendita sicuramente non so dopo una settimana circa gli dici come ti sei trovata con i prodotti ma ci può stare un messaggino magari ecco non una chiamata o videochiamate chiaro se sappiamo che quella signora non è particolarmente impegnata una chiamata sì però certo che se è una signora impegnata con bambini e lavora cioè se magari non ha neanche tempo a momenti per se stessa fare una videochiamata non penso sia il caso però un messaggino a dire anche come ti sei trovata con i nostri prodotti è secondo me è bellissimo no? e allora poi si creano anche proprio delle amicizie infatti con molti clienti ho creato anche proprio dei bel rapporti perché è bello magari vedi che stanno un problema al di fuori proprio della casa ma proprio anche di salute chiedi come stai ma cosa ti è successo quindi cioè vedo che stanno proprio fa allargare proprio la community anche in questo senso quindi io quando consiglio prodotti cioè dico anche come vanno utilizzati infatti adesso qui avrò da consegnarli un bel po' qui ne sono 3, 6, 9, 12, 14 flaconi venduti e per me non me ne sono preso neanche uno perché io così ce l'ho quindi 14 flaconi venduti abbiamo stravinto la gara abbiamo superati ho pensato per le mie clienti adesso vediamo un po' se le trovo no non le trovo ah l'ho messa lì lontano 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 di premiare le mie clienti quelle più giustamente più fidelizzate più come vi posso spiegare? con quelle che conosco ovviamente perché io la gara l'ho indetta con le mie clienti quelle più che conosco ormai da mesi 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 anche anno anche qualche anno quindi praticamente con delle matite dove all'interno ci sono dei semi questi che proprio le vende steno ma le vende steno cioè vende sono i doni fanno parte dei doni e cosa comprendono? ci sono tre tipi di matite sono curiose perché io infatti non le ho mai utilizzate quindi adesso le sto scoprendo con voi però sono talmente curiosa che voglio che carine sono matite che belline e se vedete c'hanno nella testolina un colore diverso sono delle piantine praticamente noi andiamo a tolgo il machine booster perché sennò creiamo confusione comunque intanto sapete già che la gara l'abbiamo indetta quindi complimenti a noi e alle mie clienti che mi guarderanno grazie 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 allora vediamo un po' abbiamo semi di basilico peperoncino e pomodoro ciliegino quindi penso che sia basilico il pomodoro e il peperoncino e l'arancione però sono davvero carine quindi ad ogni cliente ne regalerò una per ringraziarla proprio per avermi fatto vinto questa gara ecco quindi uno diceva vabbè la sciocchezza no perché io penso che basta solo il pensiero ecco quindi non non penso cioè non ho fatto nulla di che ecco però a me piace anche solo con il pensiero c'è qualcuno che mi ha detto no Ale non ti starà a scomodare ma no ma una semplice matita è proprio un ringraziamento perché tanto poi questa matita avrà anche altra vita ecco piantandola nel terreno in un vaso quindi non è un semplice diciamo pensierino è una cosa che magari se la tengono fino all'anno prossimo pure verso aprile vanno a piantarla perché poi va consumata la matita e va piantata ho sentito che tipo le pastiglie quelle le medicine quelle sono adesso io non so neanche come definire però è una diciamo classica ma secondo me è biodegradabile infatti qui dice allora scrivi fino a consumare la tua matita pianta la tua matita premendola nel terreno con la con la punta verso l'alto sotterrare la capsula con i semi e innaffiarla esponila al sole vedrai crescere l'autopianta quindi c'è sì sì esatto con la parte della punta che ha finito la mette in alto e la parte dove stanno i semini vanno interrati secondo me è una cosa molto carina mi è piaciuto farla le mie clienti fedeli dove stanno anche raccogliendo i punti glieli sto tenendo sotto controllo così potranno andarsi a scegliere il dono bene allora andiamo avanti perché è già passato vedo 18 minuti dove ho parlato cioè dei prodotti anche che devo far vedere quindi allora partiamo subito io ho detto già che a me quando io inizio a parlare sono così allora partiamo con il window spray il window spray è un antiridepositante grazie anche all'alcol isopropilico possiamo andare a pulire i televisori schermi monitor vi li lascio proprio puliti voi vedrete che si forma una patina nel senso buono una patina di pulito dove permette al vetro di rimanere pulito più a lungo quindi io vado a togliere proprio gli escrementi di uccellini cacchette impronte addirittura e ve lo metterò piano piano perché ci avrei tante cose da mettere su youtube che voi non avete idea ma lo farò mi va a togliere il rossetto quindi sarà una prova estrema da fare col mondo spray io questo qui è stato il mio primo prodotto che ho utilizzato perché avevo proprio il problema del fumo e non sapevo più come toglierlo dei vetri mia mamma me l'ha dato e ho fatto rinascere i vetri in tutta onestà quindi se avete persone che fumano all'interno della casa oppure anche la parte proprio della cucina io ho la porta finestra che è vicino alla cucina e purtroppo i fumi gli odori si impregnano e una passata di windows spray con abbinato al suo panno extra shine vengono una favola vi assicuro una favola io adesso ve l'ho spiegato molto al volo perché verrebbe solo un video molto molto lungo però è un prodotto di quelli che non si fa senza ve lo dico già perché è un prodotto veramente da provare è un prodotto da da testare proprio in casa ecco allora di solito questo qui si usa per le vetrate esterne io però quando me lo trovo in mano faccio interno ed esterno perché proprio vedo una differenza sostanziale tra l'interno e l'esterno di casa c'è proprio sembra di guardare fuori che non ci sia manco la finestra c'è proprio a me questo quello che mi piace ecco io di stanno mi sono innamorata perché sono prodotti professionali mi ricordo che mamma infatti disse non lo sarei tanto perché costa costa dice mamma perché quando l'hai pagato mamma l'aveva preso non in offerta e infatti dopo io quando poi ero diventata consulente dissi mamma ma non ti sei fatta dare un catalogo non me l'aveva dato però mi ha detto che costa così non lo so io esattamente perché lei si era affidata una signora quindi non so dirvi esattamente come come sia andata la questione però l'ho pagata a prezzo pieno ecco quindi non so se 11 o 12 euro adesso quanto sta non mi ricordo però è un prodotto veramente eccezionale infatti anche io quando era casa di me non la pulivo con questo ne basta veramente poco perché poi anche una formula molto aggrappante quindi non va a colare e mi va proprio a sgrassare a bevare cioè a descriverlo ci vorrebbe una giornata per il profumo che lascia l'effetto che fa andata a ripulire i vetri dopo veramente tanto tempo quindi se siete persone come me che devono vi dico già immagazzinare le forze che avete dentro perché purtroppo soffro di dolore cronico stanchezza cronica vi sto facendo un video che sono quasi le 10 di mattina perché perché la mattina sono un po più produttiva purtroppo per andare dalla giornata non dormo bene la notte mi ritrovo ad avere una stanchezza molto pesante quindi devo dormire quell'ora due pomeriggio e poi riprendo un po star meglio purtroppo soffrire di molte patologie tutti insieme non è facile non è proprio facile quindi mi devo avvalere di prodotti che mi aiutino e che non debba stare tutti i giorni a pulire assolutamente perché proprio io avrei bisogno se no di una donna di pulizia cosa che non posso permettermi cioè ve lo dico proprio con il cuore non perché adesso vi sto parlando di prodotti steno ma assolutamente però mi rendo conto la differenza di quando non li usavo a quando li sto usando quindi da così a così infatti molte signore anziane sono lì che mi dicono guarda Alessia hai proprio ragione cioè pulire con i prodotti steno faccio prima e mi occupo di altre cose che magari prima per stare a pulire una superficie ci mettevo di più e avevo meno tempo per me adesso ho più tempo per me però pulisco la casa ma poi la vado a ripulire dopo un tot tipo lavare i pavimenti lo faccio sì però non vado lì a farlo mattina pomeriggio sera oppure un giorno su un giorno ma lo posso fare anche dopo quattro giorni perché mi lasci i pavimenti puliti belli lucidi in quanto se abbiamo i bambini che vanno a macchiare e lì posso capire però essendo tipo io e mio marito il pavimento mi rimane molto molto pulito quindi vado a lavare una volta col germtron perché vado a disinfettare e una volta con il multiflor passiamo a un altro prodotto se no come vi dico sempre io mi dilungo allora qui abbiamo tre si è incastrato ok abbiamo tre trigger che servono per i nostri express shine allora l'express shine è un anticalcare andiamo a vedere quanto ha allora io questo qui vi dico già che come anticalcare è buono ma lo consiglio soprattutto per la doccia box doccia quante persone hanno questo problema con il box doccia alzate la mano io ho una paura che quasi ribalta tutto ok quante anzi aspettate perché poi ce n'ho un po di più aspettate aspettate perché tutto nascosto olle ne abbiamo ben cinque 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 signori cinque e tre trigger perché una signora praticamente già i trigger me l'aveva comprato e mi ha detto bene dai solo uno ecco quindi trigger li metto qui tanto non hanno bisogno di spiegazioni sono spruzzini mentre questi qui sono anticalcare per il bagno mi vanno a togliere il calcare in modo efficace lasciano le superfici lucide hanno cambiato il pack già da un po' hanno cambiato vestito insomma ecco si sono fatti più belli e come vi dicevo l'express shine è molto famoso in casa steno per pulire la doccia per proprio lasciarla pulita lucida il calcare che se ne va con neanche due minuti e lascia proprio l'acqua scivolare giù quindi questo è un prodotto infatti che mi riordinano spesso come vedete allora volevo andare a vedere un attimo gli ingredienti oltre il 95 per cento di ingredienti di origine naturale plastica 100 per cento riciclate imballaggio riciclabile addirittura decalcifica un minuto io ho detto due minuti decalcifica in un minuto senza strofinare quindi questo che mi va a dire proprio che ha una potenza molto molto forte contro il calcare quindi anche questo prodotto come solito ve lo consiglio allora proviamo a fare un po di ordine vediamo quasi se lo metto qui di lato non dovrebbe dal fastidio scusate ma purtroppo non ho proprio tantissimo prossimo posto allora poi vi voglio parlare vediamo un po adesso passiamo un po al bucato il bucato che questo problema di bucato molta gente mi dice problema di bucato l'ho preso insieme perché siamo abbinati con la maglia quindi sia il profumo cioè voi non potete capire questo che profumo io mi sa che questo è il prossimo che mi compro perché non è mio pre wash quindi stiamo parlando di un pre trattante per le macchie che io vado a spruzzare a una a una gittata molto larga quindi va a prendere bene le macchie anche larghe io posso andare a scegliere di cosa fare mettere immediatamente lavatrice oppure se non ho nulla da lavare posso metterlo nel cestone non succede nulla anzi dopo quando lo vado a recuperare lo metto in lavatrice intanto lui comunque sia fatto il suo effetto quindi questo è un prodotto veramente che viene comprato lui tantissimo soprattutto io questo che ad esempio non lo uso ma perché proprio al momento non avendo bambini non ho delle macchie ostinate però le mamme le mamme proprio vanno pazze per questo prodotto perché va a togliere proprio cioccolato fango erba pomodoro di tutto la qualunque cioè io ecco sporco sporco non ne ho non avendo bambini vestiti diciamo che sono puliti ma ovviamente non li lava perché bisogna essere lavati igienizzati e tutto però io e mio marito non abbiamo macchie quindi io questo prodotto non l'ho comprato ma io vedo dei risultati vedo le signore che lo usano proprio in diretta ne sta parlato bene e io infatti c'è vedo dei anche miracoli proprio sul sangue ecco io per fortuna grazie a dio anche se non sto proprio bene su quel lato lì però non vado a sporcare lenzuola speriamo sia mai perché sennò veramente me lo devo ordinare anch'io e quindi comunque si va a togliere proprio anche macchie di sangue il tutto comunque sia in acqua fredda quindi è un prodotto veramente top anche lui per il bucato poi io ho questo profumo qua di daily wash che mi stravolge proprio le narici cioè quando arrivano in pakistan mi sembra quasi natale sembra quasi con tutti i profumi che vengono io questo qui non l'ho mai sentito infatti se devo dire tra quello blu quello verde che l'ho sentito una volta ma sempre tramite così questo qua cioè io questo qua io sento che è il mio preferito adesso sto usando ancora quello di giugno che ormai non è rimasto tanto così piano piano usandolo usandolo era una fragranza estiva limone citronella adesso non ricordo fenomenale perché quello il daily wash lava a bassissime temperature quindi allora stiamo parlando già in un periodo dove qua sta aumentando anche l'area che respiriamo steno cosa fa pensato di non alzare i prezzi anzi di farvi delle offerte ancora più allettanti per andare a risparmiare perché di questo prodotto su una lavatrice normale classica di una famiglia italiana quindi parliamo di 7 8 kg ne bastano solo 35 ml quindi essendo da un litro e mezzo quindi un litro e mezzo sono tanti eh voi ci fate 42 lavaggi e adesso in promozione a proposito parlando di catalogo non voglio perdermi troppo in chiacchiere però questa offerta va detta perché 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 merita merita tanto c'è anche in offerta l'windospray con il suvano extra shine allora andiamo a vedere questo bellissimo daily wash non lo trovo allora ma tanto lo trovo lo trovo allora daily wash diciamo che è la prima offerta che ci presentano perché perché il daily wash è quel prodotto dove voi vedrete dei risultati impeccabili qui ce ne danno due quindi potete scegliere tra note fresche ambrata e quello azzurro classico oppure mughetto e fiori d'arancio cioè io qua flacone chiuso mai aperto sta emanando un profumo che voi dal telefono purtroppo non capite quindi dovete acquistarlo e se vi iscrivete come clienti privilegiati lo pagate meno dell'offerta che vi dico allora mi stanno arrivando anche dei messaggi li leggerò dopo in più abbiamo mela verde e frutti d'acqua anche questo l'ho sentito però diciamo che neanche lì è una questione di gusto ma cosa che offerta ci dà? ci dà 2 al prezzo di 1 quindi 11 euro per 84 lavaggi è un'offerta veramente da non perdere cioè voi avrete mesi e mesi di bucato ripeto mesi e mesi di bucato perché questo qui è per capi bianchi colorati lava a basse temperature quindi ho già 20 gradi ho una efficacia una potenza massima di questo prodotto quindi non fatevi assolutamente scappare queste offerte l'87% di ingredienti naturali è testato dermatologicamente spesso noi ci ritroviamo con allergie dermatiti psioriasi perché andiamo a usare prodotti commerciali che utilizzano dei fosfati ancora utilizzano dei prodotti che non vanno bene sulla nostra pelle ed è per quello che a volte magari si forma proprio una patina sui vestiti andiamo proprio che magari ci portano prurito noi questi prodotti qua sono testati dermatologicamente e quindi vanno proprio a ridurre questi sintomi per chi ne ha affetto quindi il mio consiglio è acquistatolo se volete sentire proprio anche la profumazione perché adesso c'è anche un superset infatti vi lascerò la pagina facebook vi lascerò io li pubblico tutte ma tutte tutte le offerte quindi non ve le fate scappare neanche uno adesso il daily wash l'hanno messo anche in un superset mi viene da dire welcome set green l'hanno chiamato anche quello vorrei farci un video quindi spero di fare un video al giorno così magari io riuscirò a mettervi un po' tutto un insieme di cose in modo che voi vi fate proprio una panoramica generale e sono sicura che non mi potete dire che non c'è un prodotto che non vi piaccia dell'asteno non mi venite a dire questo perché ci rimango male 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 quindi ne potete acquistare due uguali due diversi ma li avrete a 11 euro quindi due uno più uno gratis ecco mi stavo sbagliando e questa promozione hanno fatta per il back to school quindi ritorno a scuola laviamo i panni dei nostri bimbi laviamo tutto quello che serve per andare a scuola infatti qui dice a proposito di profumo profumo irresistibile fragranza intensa e fresca ve lo confermo però ecco tramite telefono non potete sentirlo quello mi dispiace un pochino però se lo volete sentire non vi resta che acquistarlo passiamo passiamo visto che abbiamo parlato di bucato ci aggiungiamo un buonissimo ammorbidente concentrato ah io di questi qui c'è ancora uno edizione limitata allora per una lavatrice di 4-5 kg ne bastano 20 ml per se 8 kg siamo sempre su 35 ml come vedete abbiamo prodotti proprio fatti in plastica riciclata flacone riciclabile dermatologicamente testati qui abbiamo vediamo la percentuale un 95% di ingredienti naturali quindi anche questi non danno problemi a chi soffre di allergie dermatiti e questa fragranza è un blue explosion nota fresca di gelsumino quindi se amate i fiori fa per voi rende i panni morbidi e niente quindi questo qui è un ammorbidente non lo posso aprire perché non è mio come tutti i prodotti non sono miei non c'è nulla di mio tranne le matite che volevo premiare le signore che hanno aderito le mie clienti che hanno aderito appunto a questa a questa mia gara cioè mia gara più che altro l'hanno messa in filiale e che ho vinto quindi ho detto visto che premiano a me io voglio anche premiare le mie signore quindi questo qui è un ammorbidente ovviamente ci sono altre due fragranze che adesso non ricordo e comunque se sono buonissime io ho una fragranza edizione limitata sempre di giugno che era compreso con il daily wash se le abbinate insieme vi dico già vesce un bucato che si sente per tutto il balcone quindi veramente da provare allora io l'amorbidente sarà perché poi anche l'asciugatrice lo uso solo in estate ma è una cosa mia personale poi c'è chi lo usa perché poi dopo sento che in asciugatrice un po' si perde la cosa che voglio provare è vedere se questo ammorbidente in asciugatrice va a perdersi la maggior parte degli ammorbidenti si vanno a disperdere quindi io lo uso la maggior parte d'estate perché l'asciugatrice sta a riposo ma fra un po' riparte a pieno ritmo quindi vedremo se gli ammorbidenti in asciugatrice si sente profumo oppure ve lo saprò dire allora abbiamo rimasto due prodotti ma due prodotti simili ma non uguali allora stiamo parlando di oven oven è un prodotto era scontato il gatto oven è un prodotto eccezionale è un mangia grasso formidabile per il vostro forno i fornelli gli ugelli della cucina cioè proprio è uno di quei prodotti dove non si può restare senza voi togliete il grasso con niente l'unto lo sporco è un validissimo aiuto ce l'ho anch'io ho ancora la confezione vecchia ma perché lo uso una volta ogni tanto non è che sto sempre lì a pulire il forno ecco e questo qui è un pulitore professionale allora io vi dico già che bisogna preriscaldare il forno a 60 gradi quando si spegne spegnete il forno spruzzate uniformemente questo prodotto nel forno lasciate agire io faccio anche agire un quarto d'ora quando vedo che è incrostato bene e poi andate a ripulire e anche di facile risciacquo guarda non dovete stare in pazziere una volta ho chiesto in un gruppo di pulizie aiutatemi ma perché mi ero appena trasferita e purtroppo c'era il mio suocero con l'anima buona di mio suocero e purtroppo si sa due maschi non faranno mai le pulizie come noi donne molto approfondite molto più nei dettagli quindi avevo bisogno di un prodotto che mi andasse un attimo a dare una pulire per essere più sicura di usare un forno un po' più pulito non che fosse sporco perché mio marito comunque sia manutenzione la faceva assolutamente però una cosa mia personale diciamo che fra donne ci capiamo va? e allora cosa ho fatto? ho chiesto un gruppo su un gruppo di pulizie di facebook mi hanno detto prova bicarbonato limone bicarbonato aceto una mi ha detto guardale che guarda Alessia le dico signora che bicarbonato può andare bene però c'è un po' da mattire per ripulire io no vabbè non c'è problema cioè so che di solito su uno si usa dei detergenti ci vuole sempre lì un po' di risciacquo e tutto allora premetto non sapevo che c'era da mattire così tanto c'era da stare lì a togliere che si riforma sempre questo bicarbonato questa pappetta che si riforma comunque sia non era pulito a sufficienza cioè ho visto sì che aveva tolto un bel po' di macchie più ostinate perché erano macchie vecchie però usciva sempre lo scotex perché poi ho utilizzato solo scotex perché avevo rovinato uno straccio l'avevo proprio rovinato infatti non usava ancora prodotti professionali l'avevo provato a lavare la lavatrice mi è rimasto nero ho preferito buttarlo quindi si vede che eventualmente anche se mio marito lo puliva magari lo puliva solo con un panno e acqua e quindi non andava a togliere lo sporco e allora ho detto cavoli stavo lì con mal di schiena mal alle gambe non ce la facevo più mi sono messa a piangere proprio ve lo giuro ho chiamato mia mamma e ho detto mamma io ho fatto non so se ho fatto casino non so se ho fatto un magello però ho usato bicarbonato e tutto mi è venuto un paciugo non riesco a mandarlo via mi ha detto cerca di mettere acqua vedrai che poi se ne va infatti con l'acqua mi ha aiutato tantissimo però è una cosa che l'ho fatto una volta e mai più infatti poi dopo nel gruppo ho scritto guardate ho risolto un po' però scusate se ve lo dico ma io mi sono ammazzata ed era il periodo che avevo il ferro sotto i piedi ed era un caldo becco perché era era i primi di luglio del 2017 quando abbiamo raggiunto anche qui 42-43 gradi io stavo morendo quella mattina perché poi non avevo neanche il condizionatore acceso non sapevo di andare a fare una mazzata simile perché poi il consiglio l'ho chiesto il giorno prima alla sera e il giorno dopo non vedevo l'ora di provare questo nuovo consiglio era lì oddio oddio l'ho provata anche con mio marito non fa per me non è per me chi lo fa insomma siete bravi e tutto ma non fa per me perché ho bisogno di cose veloci facili e semplici come vi ho detto prima non sapevo di avere questa patologie croniche di avere queste malattie rare non sapevo di soffrire di dolore cronico e in quel periodo avevo anche proprio il ferro sotto i piedi da quando invece mi hanno fatto scoprire due anni fa questo prodotto la mia vita è cambiata in tutti i sensi cioè spruzzi lascia agire da una passata veloce in cinque minuti ho pulito un forno io quella mattina dopo mezz'ora ero ancora lì in ginocchio mi sono dovuta prendere un cuscino per le ginocchia io ho male dal dolore dappertutto il pomeriggio mi sono presa un antinfiammatorio io ero distrutta io ero distrutta poi magari ci sarà qualche signora che mi diceva va bene sei esagerata no no io per il dolore che ho avuto e magari adesso so anche il motivo per il dolore che ho avuto mi sono dovuta prendere un antinfiammatorio ero a pezzi a pezzi infatti io se mi chiedono cosa mi consigli per pulire il forno velocemente assolutamente lui non vi mettete a pastrocchiare con poltiglie che poi vi ci vuole non so cosa per toglierle ma non fa per me io infatti poi usavo prodotti così dove c'era scritto senza risciacquo ma non andavano a pulire perché comunque poi avrei passato lui mi è tornata nuova la teglia che pensavo di buttare c'ho ancora il primo video che feci che l'avevo messo in una mia pagina facebook dedicata a steno mi ricordo che io dicevo oddio ma cos'è sta roba cioè io vedevo la teglia rinata proprio era tornata lucente era proprio crostata me l'aveva data mia mamma e aveva più di vent'anni la teglia torna come nuovo cioè io quindi ve lo strastra consiglio è un prodotto veramente fenomenale quindi già voi a vedere anche questi prodotti vi fate già un'idea di cosa ordinare perché anche Loven è in offerta in questo catalogo ora magari molte di voi dicono ma tu lo fai per vendere? no assolutamente io do i consigli su quello che mi trovo bene come vi ho detto di questo che non l'ho mai utilizzato vi ho spiegato qual è la sua efficacia quindi andare a pretrattare le macchie che potete lasciarlo sia dentro il cesto oppure metterlo in lavatrice se avete qualche cosa però vi ho detto personalmente che io questo non l'ho mai usato però molte mamme proprio vengono a fare i video li vado proprio a vedere io di persona perché anche io voglio documentarmi su prodotti che io magari non uso perché non ne sento la necessità quindi magari il sentirmi dire ma tu parli di questi prodotti perché li vuoi vendere io assolutamente allora chi vuole li compra io faccio solo formazione e informazione perché poi anche le ragazze consulenti dove io vi dico seguite le mie dirette andatevi a vedere i video su youtube dove io faccio formazione gratuita anche le mie consulenti quindi per te che magari sei nuova magari stai cercando anche un lavoretto vedi hai trovato il posto giusto al momento giusto ti piacciono le pulizie ma qua c'è se sei se la straba è venuta e io che sono una matta di pulizie piacciono da morire tornando all'oven abbiamo un super prezzo di 8,50 euro ma come vi dico sempre sono prodotti ultra ultra concentrati quindi ne basta veramente poco per far tornare di tutto volevo vedere se c'era scritto tutti gli utilizzi perché non so se ve li ho detti tutti comunque griglie, placche anche del piano cottura tutti i pezzetti li potete scaldare un pochino o se no potete fare anche la pulizia a freddo ma va lasciato agire 4 ore quindi potete anche utilizzare a forno spento magari la sera prima di andare a dormire spruzzate potete chiudere viene andata a dormire la mattina ha dato una passata e pulito il forno poi comunque si è brutto quando mi viene detto ma tu lo fai per vendere no perché io comunque si aiuto anche le persone a fare una vita migliore andando a risformiare e velocizzare le pulizie cosa che io cercavo da tanto ultimissimo prodotto di cui parlo è il Fireplace che ha cambiato veste ed è anche bellino carino andiamolo a vedere insieme allora questo qui è un pulitore due in uno per camminette e barbecue quindi è finita l'estate quasi siamo a settembre buoni propositi dobbiamo riniziare un po' tutta la routine con l'arrivo anche del freschetto abbiamo strausato barbecue grill di tutto di più come pulirli con il Fireplace è un prodotto fantastico va proprio a togliere tutto lo sporco 87% di ingredienti naturale fa parte della linea Act for Green Home in più c'è anche un'altra cosa nuova che ora non vi posso dire non ho detto troppe cose non ho detto troppe cose e niente poi io vi ricordo sempre che comunque la maggior parte dei prodotti che acquistate c'è l'etichetta che voi potete andare a aprire ci sono tutte le istruzioni tutte tutte ed è bellissimo infatti io alle mie clienti magari ad alcune non io lavoro hanno anche detto però non sanno che magari possono anche andare a vedere le istruzioni infatti qui dice sollevare voi andate a sollevare e leggerete tutte le istruzioni del prodotto come viene usato come si usa vedete è bellissimo cioè a me piace non so io sono innamorata di questa azienda sono 60 anni quindi è un'azienda solida dove i tempi cambiano e anche Stenom mi sono presa questo prodotto perché fa un profumo pazzesco i tempi cambiano il pianeta purtroppo ha bisogno di noi e quindi Stenom si porta sempre più avanti e quindi ho scelto Stenom proprio perché l'azienda solida ha 60 anni offre prodotti di qualità super concentrati offre lavoro offre carriera offre un extra quindi per chi ci sono ragazze che magari si vogliono togliere lo switch ed andare una volta al mese a fare la manicure a fare i capelli a fare la qualunque Stenom offre anche questo ed è questo il bello perché sono 60 anni che io sento molte signore qui che ad esempio facevano le riunioni ecco Party Planner proprio il fondatore Stanley della Stenom in America aveva deciso proprio per le donne che rimanevano da sole i mariti erano partiti per la guerra di inventarsi qualcosa per tenere anche le donne impegnate quindi aveva deciso di fare queste riunioni parlando proprio di pulito tra un caffè e un tè e due biscotti e da lì è nato insomma tutto questo Party Planner è approdato in Italia nel 1962 quindi se non erro il primo di ottobre festeggia 60 anni in Italia che allo stesso anno che è nato mio papà perché mio papà adesso è 62 e veramente generazioni e generazioni di persone stanno scoprendo questi prodotti si stanno innamorando ci sono altri brand ovviamente vedete solo i prodotti di pulizia che sono quelli che più parlo perché li utilizzo in primis però abbiamo anche la linea parafarmacia abbiamo anche la linea creme che usano oli essenziali abbiamo la linea Trucco Flormar abbiamo la Cuties dove abbiamo bagnoschiuma abbiamo insomma tanti e tantissimi prodotti che non vi resterà solo per scoprirli quindi io questi tutti i profumi che mi avvolgono nella mia casa vi saluto anche col catalogo nuovo che poi magari ve lo metto sotto nel video se riesco poi ci faccio un video magari vi spiego alcuni prodotti insomma fatemi sapere nei commenti di cosa volete sapere perché avevo una ragazza che voleva sapere sulla carriera anche su quello arrivo perché iscrivo i system mi sto facendo anche il foglietto famoso che vi avevo spiegato nell'ultimo video mi ricordo e ho un quadernetto dove mi sto appuntando tutte le domande ne sto ricevendo domande ma sono sia diciamo critica oppure critica nel senso buona ad esempio ma è troppo cara ecco quindi giustamente fanno l'obiezione e io do la giusta giusta risposta perché è cara ok oppure mi viene detto come si usa un prodotto come si fa un altro ma conviene far carriera ecco ci sono varie domande che poi le andiamo a snocciolare una per una va bene io adesso vi saluto ho fatto un video lungo 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 ma a me piace parlare perché mi piace proprio mostrare questi prodotti non sono miei come vi ho detto cioè io ho tantissimi prodotti di cui non vi ho fatto vedere e magari allora se a voi vi piace mi dovete però far sapere questo se questi video lunghi vi piacciono oppure volete dei video più corti è chiaro che è uno spacchettamento dove ho tanti prodotti a me piace anche spiegare perché che vi devo dire mi è arrivato delle wash mi è arrivato questo che prodotti sono non mi piace io ve lo dico già non mi piace non è il mio modo di fare non è il mio modo di essere ogni prodotto che mi arriva devo andare a spiegare che cosa contiene il flacone di cosa è composto gli ingredienti di quanta percentuale che cosa mi va a fare cosa va ad agire sono così quindi allora se voi preferite dei video più corti ok magari dove vi spiego ecco se nel video di spacchettamento c'è stato un prodotto che vi ha incuriosito che più o meno io ce li ho tutti questi eh tranne il fireplace ecco il fireplace è un prodotto anche che non ho perchè uso l'oven e pre wash che non uso gli altri bene o male li ho quindi assolutissimamente non c'è problema l'expérience shine ci sto pensando però io uso il deep gel come disincrossante che è una favola e comunque c'è se voi avete bisogno anche di parlare di un singolo prodotto un set di prodotti sono qui potete farmi tutte le domande iscrivendovi attivando la campanella insomma ne avete di fare da cose io quindi vi lascio questi video che forse possono essere lunghi non lo so però a parere mio i prodotti vanno spiegati vanno spiegati bene attentamente perchè sennò uno diciamo che dice no non lo acquisto perchè costa troppo io vedo sempre questa come risposta quindi a quella domanda c'è anche una risposta ed è tutta la spiegazione tutto il mondo steno in un solo prodotto c'è tutto il mondo steno ecco quindi io adesso vi saluto vi lascio mi stanno arrivando tanti messaggi tra il gruppo tra le consulenti tra clienti non lo so chi sia vedo un enorme elenco di richieste non so se sentite anche il vibrare mentre parlo me ne scuso di non aver tolto la suoneria in anticipo e con questo video è lungo vi saluto lasciatemi tutte le domande che volete che appena passato vi rispondo e vi mando un enorme abbraccio e buona giornata ciao ciao ciao